I ricordi più importanti sono due aspetti. Uno è l'aspetto, diciamo, la drammaticità del momento che quindi ha coinvolto praticamente parte del Paese e l'altro invece è stato quel recupero di solidarietà che il Paese ha avuto in quei momenti dove si è visto praticamente un'amicizia e una voglia di collaborare e di stare insieme che evidentemente non era presente all'interno del Paese. Si era partiti, mi ricordo, dal sabato notte quando la Dora aveva iniziato a uscire in campagna, soprattutto nella campagna della frazione Torille che era interessata in maniera particolare, avevamo passato tutta la notte a creare degli sbaramenti con tutta una serie di persone che mi davano una mano, con i vigili del fuoco e quant'altro. Ma il momento più drammatico è stato la domenica quando praticamente Torille è una frazione piuttosto sfortunata sotto quel profilo, quando la Dora a monte ha sfondato gli argini ed è entrata l'acqua praticamente in tutta la frazione. In quel momento, anche per la capacità e sicuramente dei nostri vigili del fuoco che mi hanno avvertito, siamo partiti in parecchi con, mi ricordo ancora molto bene, con degli scavatori, con delle bende grandissime, prendevamo la gente in piedi all'interno della frazione perché l'acqua ormai aveva invaso tutte le case e li portavamo a bordo dell'autostrada dovevamo recuperato il pullman della scuola guida che a bordo dell'autostrada caricavamo le persone e le portavamo via. Ma il ricordo forse più drammatico è stato il momento in cui ci mancava una persona e l'abbiamo recuperata in un garage che era fermo immobile, aveva l'acqua ormai a livello dell'addome e quindi era praticamente un anziano che era immobilizzato ed era spaventatissimo. In quel momento l'abbiamo recuperata, era aumentata la quattro e quindi credo che mi susciti ancora a me in questo momento un'emozione fortissima. E poi ci mancava ancora una persona che era scappata su per i monti e che è uscita il giorno dopo praticamente. Questo è stato forse il momento più drammatico. Ho sentito in quei momenti un forte affetto dei miei cittadini e questo mi ha reso sicuramente gratificato di tutti quegli sforzi che abbiamo fatto anche nei giorni seguenti dove abbiamo organizzato praticamente tutta la... all'interno della micro quello che è stato l'organizzazione, il ricordo delle persone che erano state spostate da Torille, c'erano più di 150 persone dislocate sia all'interno della micro comunità ma anche all'interno di varie famiglie per cui abbiamo poi organizzato i lavori. C'è stata un'ampia solidarietà da parte del paese.